Uomini e donne, anticipazioni, Riccardo abbandona studio in lacrime, Federico rifiutato. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena che avrà come protagonista Riccardo Guarnieri. Il cavaliere si ritroverà ad affrontare in studio una situazione particolare, complice al ritorno della sua ex Ida Platano. E avrà una reazione del tutto inaspettata. Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, in queste nuove puntate del talk show, si ritroverà a essere rifiutato in esterna dalla sua pretendente Alice. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma nel corso delle settimane di dicembre, rivelano che per Riccardo Guarnieri arriverà il momento di affrontare il ritorno in studio Ida Platano. Dopo che la donna ha scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione insieme ad Alessandro. La storia d'amore tra Ida e Alessandro procederà nel migliore dei modi, anche se la dama siciliana coglierà la pala al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpa. Il motivo? Ida rivelerà che, dopo la registrazione della scelta finale, Riccardo è tornato a farsi sentire e lo ha fatto inviandole dei messaggi che hanno creato un po' di caos nel suo rapporto con Alessandro. La situazione in studio assumerà una piega inaspettata, le polemiche contro Riccardo. Chi sosterrà di aver superato la fine della storia d'amore con Ida, non mancheranno. Il Cavaliere, data la situazione che si verrà a creare in studio, avrà una reazione del tutto inaspettata. Le anticipazioni di uomini e donne rivelano che Riccardo finirà in lacrime e lascerà lo studio, rifugiandosi dietro le quinte del talk show. Questa volta però, a differenza di quanto accadeva in passato, non ci sarei da rincorrerlo dietro le quinte. Dato che la dama siciliana è proiettata solo sulla sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza. Le anticipazioni di uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Federico Nicotera, il quale sarà sempre più preso dalla corteggiatrice Carola. Tra i due ci sarà una nuova esterna romantica, durante la quale si scambieranno un altro bacio appassionante. Dopo quello dell'esterna precedente, la reazione di Alice non si farà attendere, l'altra pretendente di Federico deciderà di ripagarlo con un sonoro rifiuto. Quando il tronista inviterà Alice per un incontro in esterna, la ragazza sceglierà di non presentarsi e lo lascerà all'appuntamento da solo. Così da dargli una lezione per quanto ha combinato con Carola nel corso delle ultime settimane. Il movimento è un'esercizio che si fa solo per il periodo di Uomo 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 di Uomo. Grazie.